Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, partiamo subito con gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. In Fipilì, in direzione Livorno, chiuso il tratto tra Lavorì e Vicarello con un chilometro di coda a causa di un incidente e un chilometro di coda anche tra Scandicci e Lastra Signa a causa di lavori. Si segnala inoltre causa frana la chiusura della statale 67 Tosco-Romagnola in località Lastra Signa. Viabilità della città di Firenze a causa di uno scavo urgente, ancora a disagio alla circolazione in via Alessandro d'Ancona all'incrocio con via Manni. Si sta per aprire una nuova fase per quanto riguarda l'organizzazione del trasporto pubblico locale in vista del rientro a scuola degli studenti. Presto aggiornamenti sui canali social di Muoversi in Toscana, si ricorda che il numero verde del trasporto pubblico locale è 800 570 530. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!